Nella mattina di Millennium parliamo ancora una volta di un evento, di un bellissimo evento dove anche noi siamo media partner e ci piace partecipare a questi eventi, specialmente quando servono veramente a tante persone, quindi ci si diverte ma si aiutano delle persone. Parliamo di Music for Emergency che si svolgerà a Fagnanolona il 19-20-21 luglio. Questo evento ce lo racconta un po' il nostro amico Saul che è uno dei volontari di Emergency. Ciao Saul! Ciao Roberto! La nostra festa nasce proprio per sostenere Emergency che è un'associazione che è nata 25 anni fa per portare cure gratuite alle vittime di guerra e della povertà. In Italia ci sono tanti volontari che sostengono Emergency da 25 anni con iniziative di informazione e di raccolta fondi. La nostra festa del 19-20-21 luglio, Music for Emergency, è proprio nata per sostenere l'associazione. Quindi insomma un momento di, come si suola fare normalmente, un momento di festa dove però si sensibilizza la gente, quindi si fa in modo di far conoscere chi forse ancora non mi conosce ma credo che sia difficile, si è sentito parlare spesso di voi. Però insomma qualcuno magari ancora non sa esattamente cosa fate, dove lo fate e in che modo lo fate. Esattamente, sono tre giorni a ingresso gratuito in cui ci sarà sport, divertimento, musica ma ci sarà anche informazione. In particolare avremo ospite la presidente di Emergency, Rossella Niccio, domenica 21 alle ore 10 proprio per presentare a tutti i presenti cosa fa l'associazione e come sta oggi. Una cosa volevo chiederti, visto che tu sei uno dei volontari, se uno volesse diventare volontario di Emergency dove va a trovare notizie o quant'altro per poter magari veramente partecipare in maniera attiva anche alle vostre attività? Sì, grazie della domanda. Guarda, sul sito www.emergency.it ci sono tutte le informazioni per diventare volontario e in Italia abbiamo più di 200 gruppi e cercando sul sito si riesce a, si viene rindirittati al gruppo di volontari Emergency più vicino. Quindi bellissima questa cosa e tra l'altro c'è anche il problema solito di tutte le associazioni che devono aiutare gli altri, che non ricevono tanti fondi dallo Stato piuttosto che e allora hanno bisogno anche dell'aiuto dei cittadini come in questo caso anche con la donazione del 5 per 1000 molto importante. Trovate tutte le informazioni sul sito di Emergency. Io Saul ti ringrazio tantissimo e ridico le date e ricordatevi Fagnano Olona, Music for Emergency il 19-20-21 luglio. Ci sarà anche Saul così magari lo conoscerete anche perché è una persona simpaticissima e soprattutto una grande persona perché quando qualcuno dà una mano agli altri così in maniera volontaria deve essere per forza un numero uno e tu sei un numero uno. Grazie Saul. Grazie Roberto, grazie Radio Millennium.